Grazie, buonasera. Io spero di aver interpretato correttamente il mandato che Rosolei mi ha consegnato a nome di questo incontro perché l'input sul quale mi è stato chiesto di riflettere e di conversare riguarda il progressivo svuotamento delle assemblee elettive, non solo comunali ma anche regionali, e le ragioni conseguenti o non conseguenti a questo svuotamento per le quali l'ente che dovrebbe essere titolare di compiti di indirizzo, di programmazione, se parliamo di un ente quale l'assemblea consigliare regionale, tutti e due, quelli comunali e quelli regionali di verifica, siano inadempienti o incoerenti nella completezza dello svolgimento del ruolo o addirittura assenti. Quindi la riflessione che svolgerò è una riflessione più di carattere generale sulla fase di cambiamento delle istituzioni e sulle ragioni di questo svuotamento oppure no, vedremo se è uno svuotamento o se è una rinuncia, dal mio punto di vista è una rinuncia più che uno svuotamento e quali possano essere gli eventuali antidoti a questa situazione. Allora è del tutto evidente che nel corso degli ultimi decenni, almeno degli ultimi due decenni, si è assistito attraverso modifiche di carattere legislativo ad un rafforzamento dei poteri degli esecutivi, quindi parliamo delle giunte, parliamo del presidente della regione, parliamo del sindaco del comune, rispetto alla competenza di rappresentanza che è quella delle assemblee elettive, le quali vengono nominate attraverso una consultazione elettorale, peraltro con il cambiamento dei sistemi anche il presidente della regione, anche il sindaco del comune e questa introduzione di una prevalenza della funzione governativa rispetto alla funzione di rappresentanza, dobbiamo dirci, non è stata compiuta attraverso colpi di mano legislativi costituzionali, ma è stata compiuta assecondando quella che sembrava essere un'aspettativa generale e diffusa della popolazione, rispetto ad almeno due questioni. Una questione riguarda la rapidità e la trasparenza delle decisioni, che se in capo a uno, presidente e sindaco, o a soggetti individuabili giunte, nominate dal presidente e dal sindaco, sarebbero state più comprensibili e, nelle aspettative, anche più efficaci, se non consegnate alla dialettica politica delle assemblee, come avveniva precedentemente. E quindi questo rafforzamento del momento decisionale in capo ad uno, in capo a pochi, rispetto alla dialettica interna a un'assemblea elettiva, era anche nelle aspettative espresse dalla cittadinanza. Pensiamo alle consultazioni referendarie, pensiamo al modo col quale si rappresenta, in termini di insofferenza, quando non di ripulsa all'opinione pubblica, nei confronti delle assemblee elettive, anche di quelle parlamentari. Quindi abbiamo assistito ad una serie di riforme, che apparentemente avevano la caratteristica della popolarità, e quindi dell'attesa da parte della cittadinanza. La professoressa Agostino saprà ovviamente, per professione e capacità, essere più precisa di me. Parliamo delle riforme costituzionali del titolo quinto per quello che riguarda le amministrazioni regionali. Parliamo prima della legge 142 del 90 e poi quella del 93, dell'elezione diretta dei sindaci, per introdurre questo nuovo scenario. Questo nuovo scenario, dicevo, ha una motivazione, che è quella che ho espresso popolare, e ne ha una che è più frequente nell'analisi delle politiche pubbliche, che è la crisi del sistema della democrazia rappresentativa. La crisi del sistema della democrazia rappresentativa ha moltissime motivazioni, moltissime cause, che sarebbe bene, anche per costruire gli antidoti, provare a nominare una per una. Ad esempio, la centralità assunta dalle politiche finanziarie e dalle politiche di controllo della spesa da parte dello Stato centrale. Questa determinazione di costringere le attività e le opzioni e le priorità politiche degli enti locali all'interno di un quadro determinato dallo Stato ha delle conseguenze che abbiamo vissuto con tutte le politiche di austerità e quindi ha delle conseguenze di ricaduta sulla qualità delle politiche pubbliche, ma ha anche delle conseguenze nelle relazioni tra Stati, Stato e poteri locali. È del tutto evidente che uno Stato che determina le compatibilità economiche dei propri enti locali si misura sia nella funzione di indirizzo, quella dello Stato, sia nella funzione di controllo, quella dello Stato, verso chi rappresenta il potere locale, quindi relazioni dirette con i governatori che non a caso hanno cominciato ad avere il vezzo di chiamarsi così in quella stagione, quindi Stato che riunisce le regioni attraverso quali rappresentanti, i governatori o gli assessori, quindi componenti della giunta. Analogamente Stato che conversa e si misura con le rappresentanze comunali attraverso i sindaci individualmente o nella loro conferenza di rappresentanza che è l'Anci o attraverso i rapporti con la giunta. Quindi una prima questione riguarda quanto le autonomie sono autonome, non in un'accezione federalista ma in un'accezione almeno di determinazione delle priorità più opportune rispetto ai propri amministrati e abbiamo visto che il controllo finanziario riduce questo tipo di autonomia. La seconda questione riguarda le misure che hanno un carattere non legislativo o non deliberativo ma che attengono a indirizzi e protocolli determinati da enti terzi. Pensate ad esempio a tutti gli accessi ai finanziamenti dei programmi straordinari dell'Unione Europea. Questi introducono misure di comportamento da parte degli enti locali per avere accesso a quei finanziamenti che introducono anche degli stili di provvedimenti prima sconosciuti o prima poco praticati o prima praticati solo in alcuni contesti come l'urbanistica rispetto ai quali il Consiglio Comunale non ha titolo di intervenire perché la responsabilità è in capo all'ente proponente attraverso il suo legale rappresentante che è esattamente il Sindaco. Tutta la sfilza di accordi di programma che discendono ad esempio dagli indirizzi e dai finanziamenti di riqualificazione urbana dei programmi dell'Unione Europea non transitano attraverso l'approvazione di un Consiglio Comunale ma transitano attraverso la presentazione di una candidatura e la presentazione degli stati di attuazione avanzata dal Sindaco o da lui delegato, da lei delegato. Le assemblee elettive al massimo sugli accordi di programma possono esprimere le prese adatto. Quindi anche la normativa europea per quanto vantaggioso o favorevole rispetto ad alcuni finanziamenti ha esautorato il ruolo delle assemblee elettive. La terza questione è il moltiplicarsi di concertazioni di secondo livello. Pensate a tutta la stagione che ha investito il terzo settore con la riforma del codice del terzo settore per il quale il codice del terzo settore ha titolo alla coprogrammazione e alla coprogettazione con gli enti locali il che significa che l'ente locale, di nuovo la giunta, nella materia delegata determina con quali partner esercita alcune politiche pubbliche soprattutto in campo educativo, in campo sociale, in campo sociosanitario attraverso uno strumento di democrazia parente cioè la chiamata raccolta di tutti i soggetti potenzialmente capaci di realizzare quei programmi per poi determinare anche verso quei soggetti la redistribuzione delle risorse e la titolarità delle capacità. Quindi coprogrammazione e coprogettazione hanno praticato una sussidiarietà orizzontale il comune con i partner locali quando la sussidiarietà verticale sussidiarietà entrambe riconosciute nei principi costituzionali quando la sussidiarietà verticale Stato-Regioni-Anti-Locali non è praticata. Un'altra questione ancora è il peso di organi o istituzioni di derivazione non elettorale i quali si misurano con chi ha il potere esecutivo quindi di nuovo il Presidente della Regione, il Sindaco, assessori delegati pensata tutto il ruolo delle fondazioni bancarie nel cofinanziamento delle politiche pubbliche è del tutto evidente che le fondazioni bancarie non contrattano la loro compartecipazione ai bilanci degli enti locali per lo svolgimento di alcuni programmi con un'assemblea di 40 consiglieri lo fanno evidentemente con chi rappresenta il potere esecutivo e questo potere esecutivo avrà bontà sua volontà o meno di comunicare al Consiglio Comunale le compartecipazioni di questa natura quindi di nuovo un Consiglio Comunale che non determina quando il proprio Comune rinuncia a intervenire direttamente nell'organizzazione di alcuni servizi perché il finanziamento di quei programmi è in capo alle fondazioni bancarie non lo comunica al Consiglio Comunale non è tenuto a comunicarlo al Consiglio Comunale gli accordi sono bilaterali vengono poi assunti in deliberazioni di giunta o se il Comune intende essere più democratico in termini di comunicazioni al Consiglio Comunale in ultimo ancora la progressiva scelta di spostamento delle competenze determinate dalla legge Bassanini dal ruolo politico al ruolo tecnico amministrativo per cui tutta una serie di attività provvedimentali sono state trasferite da organi che prima erano politici a organi tecnici il che sembrava anche una grande conquista la separazione delle competenze la separazione delle responsabilità sembrava essere una modalità per rendere esplicito fin dove potesse arrivare la responsabilità virtuosa o di colpa del politico e dove dovesse invece essere riconosciuta la responsabilità virtuosa o di colpa del tecnico come abbiamo avuto modo di conoscere anche dalle vicende di cronaca politica questa questione non è proprio ratificata in questa modalità ma anche quello il passaggio di provvedimenti ad una sfera propriamente tecnica ha sottratto competenze precedenti del Consiglio Comunale quindi ci sono molte ragioni che sono state introdotte con modifiche normative molte ragioni che attengono alla stagione che stiamo attraversando che è una stagione dove i protagonisti delle politiche pubbliche non sono necessariamente più soltanto le rappresentanze istituzionali o la partecipazione dei cittadini ma come ho dimostrato programmi terzi fondazioni bancarie ruolo dell'economia e tutto ciò avvenuto in una apparente accettazione quando non consenso di un clima sociale che pretendeva capacità di decidere fine delle crisi politiche indotte da assemblee elettive lettigiose e così via ora la domanda è è proprio scontato che l'evoluzione del sistema istituzionale nei termini che ho cercato di descrivere produca anche una involuzione della democrazia dal mio punto di vista il rischio è molto presente se non è già ampiamente in essere però ci sono anche degli antidoti rispetto al fatto che il presidenzialismo possa non trasformarsi in un cesarismo detto adesso qui con sulle nostre spalle l'inconvenza non l'inconvenza l'incombere delle riforme che vengono annunciate sulle elezioni dirette il presidenzialismo e così via sembra un ottimismo esagerato però alcune modalità di costruzione di contrappesi all'esecutivo e di presa di responsabilità delle assemblee elettive possono essere messe in atto guardando al contesto contemporaneo non avendo o esercitando una nostalgia rispetto al passato perché chi come me ma anche come Maria Angela ha vissuto esperienze antecedenti alla 142 del 90 o all'elezione diretta del sindaco del 93 sa che il mugugno l'insofferenza il fastidio dei consiglieri comunali rispetto allo svuotamento dei loro poteri era un ritornello che si sentiva già allora certo in allora tutti gli atti passavano all'approvazione del consiglio comunale ma non è detto che tanti atti volessero dire tanto ruolo tanta consapevolezza tanta capacità di scelta quindi non è un ritorno al passato quello che qui almeno per quel che mi riguarda si vuole celebrare quanto piuttosto la ricerca in questo contesto di alcuni antidoti intanto un primo antidoto può essere rintracciato negli statuti regionali negli statuti comunali nei regolamenti regionali nei regolamenti comunali è vero che ci sono compiti assegnati all'esecutivo ma è anche vero che ciascuno di questi strumenti può contemplare modalità di coinvolgimento dei consigli maggiori di quelli che abbiamo conosciuto e una questione che trovo particolarmente presente nella città di Torino o nelle grandi città metropolitane è la possibilità di redistribuire delle competenze tra esecutivo e livelli territoriali laddove per il livello territoriale do per scontata una maggiore capacità di relazione di vicinanza sia di interpretazione dei bisogni che di costruzione delle decisioni con la popolazione locale introduco il tema del decentramento amministrativo un consiglio comunale capace di volere fortemente un'articolazione istituzionale territoriale è un consiglio comunale che prova a moltiplicare i luoghi delle decisioni trasferendo quindi alcune competenze del potere esecutivo centrale della giunta nei livelli territoriali i quali livelli territoriali non fosse che per la maggiore accessibilità e vicinanza sono più permeabili alla relazione conflittuale o non conflittuale con la popolazione locale non è un caso che il decentramento amministrativo sia fortemente osteggiato da tutte le giunte comunali di qualunque maggioranza politica esse siano espressione dopodiché posso anche sentire frullare nella mia mente nelle vostre il fatto o Dio ma delegare poteri a questi consigli di circoscrizione così poveri così poco capaci di esprimere competenze così diversi di segno politico a livello delle maggioranze e qua però il tema è il cane o il gatto che si morde la coda se non avranno ruolo non ci saranno politici che vi investiranno e si vorranno misurarsi con quella relazione quindi un primo tema secondo me è la redistribuzione delle competenze tra gli esecutivi centrali e il livello territoriale l'altro è il rafforzamento della funzione di indirizzo e vigilanza che veniva qui richiamata non mancano le opportunità di esercitare questa funzione di indirizzo e di vigilanza è più plausibile che manchi la volontà anzi forse non c'è nemmeno la percezione di una non volontà non c'è proprio la conoscenza di poter fare di poter dire di poter intervenire faccio solo degli esempi per titoli un esempio per titoli gli atti di accompagnamento al bilancio documento unico di programmazione allora ci si può immaginare un'assemblea elettiva specialmente la componente di maggioranza di quell'assemblea elettiva che alla presentazione di ogni bilancio di previsione o di ogni rendiconto di bilancio abbia sulla testa un sindaco e una giunta che dicano ai propri consiglieri non potete far altro che votare perché il limite di bilancio il tetto di spesa le scelte che abbiamo fatto sono blindate e quindi maggioranza non puoi che assecondare il bilancio che ti stiamo presentando si può essere che questo accada anche perché uno dei vizi delle riforme introdotte è quello del simul stabund simul cadent cioè governatore della regione e presidente della regione e sindaco mi mettete in difficoltà mi votate contro mi mettete in minoranza io mi dimetto cadete tutti tutti a casa questo tutti a casa è un ritornello che si sente molto in bocca ai primi cittadini o ai governatori della regione quindi non si può intervenire nello strumento finanziario cogente quello di quell'anno finanziario ma il documento unico di programmazione chiamasi così perché definisce gli indirizzi per i successivi tre anni e sul documento unico di programmazione e si può e come intervenire con un ruolo di indirizzo politico che se non è capace di determinare il cambiamento in quell'anno finanziario lo può prefigurare per l'arco del triennio a cui il documento unico di programmazione fa riferimento ma ci sono perché la fantasia legislativa è infinita ma anche da questo punto di vista l'apprezzabile capacità di assecondare i cambiamenti sociali molti altri strumenti pensate al bilancio di genere quindi l'ottica di genere in tutte le politiche pensate alla valutazione di impatto ambientale che non è un fatto solo tecnico pensate alla valutazione di impatto sulla salute che è prescritta e non viene esercitata quindi come si vede ci sono strumenti ignorati o poco utilizzati che rivitalizzano il ruolo del consiglio terzo antidoto riscoprire la funzione di rappresentanza perché il governo di qualunque segno politico esso sia tende per sua natura a gestire e tutelare gli interessi già affermati dopodiché non c'è presidente di regione non c'è sindaco che al lato del suo insediamento non dica sono stato eletto da quella quota di cittadini e cittadini ma rappresenterò tutte le cittadine e tutti i cittadini ma anche con la migliore buona volontà e sincerità di questa espressione è chiaro che la funzione di governo asseconda ciò che è esplicito ciò che era storicamente esplicito prima ciò che lo è in quel contesto il nuovo o l'indifeso si costruisce nel contesto sociale non nella funzione di governo e il contesto sociale viene intercettato o può essere intercettato e rappresentato più dal ruolo del consiglio che non dal ruolo del governo quindi i fermenti nuovi bisogni che non hanno trovato riconoscimento possono arrivare veicolati attraverso il consiglio più che attraverso il governo il quale governo come dicevo al massimo si misura con livelli di rappresentanza intermedi il mondo della cooperazione e altre realtà quindi il ruolo di indirizzo di valutazione che il consiglio può esprimere anche questo carattere di democrazia e di partecipazione perché il semplice continuare del governo non potrebbe semplicemente rafforzare le discriminazioni tra interessi forti e interessi deboli e poi magari chiamarla efficienza perché l'efficienza ovviamente consuma la tutela in questa logica nella quale noi ci stiamo ci stiamo muovendo quindi se il consiglio volesse il poter passare da un criterio di divisione delle competenze che è quello dominante oggi a un criterio di principio di rappresentanza potrebbe essere possibile certo io sto sfiorando un rischio e un tema che socialmente è molto forte perché se il consiglio volesse giocare fino in fondo questo ruolo di rappresentanza assumerebbe anche un ruolo che prima era dei partiti della politica dei partiti e oggi colmerebbe un vuoto perché inevitabilmente questo però è una mia interpretazione la crisi della democrazia rappresentativa è una crisi della politica ed è una crisi in primo luogo dei soggetti organizzati della politica e quindi dei partiti bello sarebbe dal mio punto di vista vedere nella scoperta e nella volontà della funzione di rappresentanza dei ruoli federativi dei consigli come ci sono compiti federativi delle giunte degli esecutivi cioè mi piacerebbe vedere a livello nazionale la costituzione delle assemblee dei consigli regionali o la costituzione delle assemblee dei consigli comunali come contropotere a queste conferenze stato-regione o conferenze stato-anci un contropotere che nasce non dalla competizione quanto piuttosto dalla percezione del ruolo che si deve necessariamente giocare avendo ricevuto un mandato elettorale che è una responsabilità non è un premio è una responsabilità altra cosa è la competizione per succedere a governare in un consiglio la minoranza è un governo in attesa evidentemente chi fa minoranza oggi in un consiglio aspetta cercando di praticare forme convincenti di poter succedere poi nel momento del governo quindi il primo tema era la evoluzione normativa delle istituzioni può portare in evoluzione della democrazia sì è già in atto ci sono delle contromisure possibili l'ultima domanda è la crisi della democrazia rappresentativa per come ce la siamo raccontata è anche una crisi della politica sì è una crisi della politica è una crisi della politica non solo perché sono indeboliti e si sono autoindeboliti i luoghi della costruzione della partecipazione e della rappresentanza si vedano i partiti ma anche perché la democrazia rappresentativa che non esercita il proprio ruolo di rappresentanza non promuove la partecipazione non promuove la partecipazione dei cittadini e delle cittadine anzi la allontana la contiene la teme quindi la partecipazione che noi viviamo come un bisogno delle persone delle elettrici degli elettori per far sentire una voce spesso una voce discorde in realtà dovrebbe essere più un bisogno degli eletti e delle elette perché dovrebbe sostanziare la loro capacità di interpretare il cambiamento sociale e io credo che sarebbe tutto vantaggio delle assemblee elettive io ho citato il tema del decentramento come strumento di partecipazione ma se ne possono trovare altri perché i regolamenti e gli statuti sono praterie sconfinate di consulte organizzazioni di partecipazione audizioni ma la partecipazione e chiudo tornando al punto di partenza cioè è solo una colpa dei livelli istituzionali e delle riforme costituzionali o è un problema del nostro modo di essere cittadine e cittadini di uno stato di una regione di uno comune la partecipazione spesso si misura nella ricerca del rapporto col potere dobbiamo dirlo chiaramente non si va a parlare se non per qualche occasione col consigliere con la commissione si cerca prima la negoziazione col sindaco la negoziazione con l'assessore di turno e così via ora dicevo che dovrebbe essere tutto interesse dell'assemblea elettiva dei consiglieri di maggioranza e dei consiglieri di minoranza favorire la partecipazione perché la partecipazione genera conoscenza la conoscenza è potere e esercitare una conoscenza potente legittimandosi agli occhi dell'interlocutore significa attivare una partecipazione anche verso le assemblee elettive non perché detengono il potere di decidere in quel momento ma perché detengono possono detenere un potere di conoscenza io spero di aver interpretato correttamente il mandato grazie grazie grazie